La zona industriale di San Giorgio Ionico è ricompresa nel perimetro della ZES, zona economica speciale che va da Melfi a Francavilla Fontana e dallo scorso settembre è entrato in funzione lo sportello unico digitale della ZES Ionica al quale dovranno fare riferimento tutti gli imprenditori che vorranno localizzare la propria impresa all'interno dell'area industriale del comune di San Giorgio Ionico. Un appuntamento importante per gli imprenditori interessati sarà quello del 24 novembre prossimo. Il sindaco Mino Fabiano spiega perché. Il prossimo 24 novembre è previsto un webinar da Infocamere con cui verrà spiegato ai professionisti, nel corso del quale verrà spiegato ai professionisti e alle imprese le modalità di utilizzo del sportello unico per l'avvio di un'attività. Si tratta di un'occasione importantissima per il territorio, per tutto il territorio ricompreso nella ZES ma soprattutto per l'area industriale di San Giorgio Ionico perché consente oltre ad un iter semplificato per l'avvio di una nuova attività di poter soffrire anche degli sgravi, dei vantaggi economici e fiscali connessi con l'istituzione della zona economica speciale. Sgravi fiscali ed incentivi quindi per le imprese che sceglieranno l'area industriale del comune di San Giorgio Ionico, imprenditori e professionisti che vorranno approfondire le modalità tecniche di presentazione di una pratica diretta alla ZES attraverso lo sportello unico digitale appositamente creato possono iscriversi al webinar gratuito previsto per giovedì 24 novembre dalle 10 alle 12.